Partiamo con l'epigenetica, la biofisica, la nutrizione, l'evoluzione dell'approccio multidisciplinare alla salutogenesi nell'era dell'inquinamento, direi la medicina funzionale nell'era dell'epigenetica, questo è l'obiettivo del corso di alta formazione. Quindi partire dalle cause e mettere a posto prima di tutto le cause e non solo mettere le toppe. Quindi probabilmente oggi come oggi abbiamo di fronte una serie di possibilità di diagnosi e un vantaggio enorme per quanto riguarda alcune terapie, che comunque non possiamo togliere nulla al fatto che la medicina abbia fatto dei passi avanti enormi per salvare la vita delle persone. Nello stesso tempo vediamo come siamo fragili di fronte a un virus di questa portata che è pandemico. quindi una delle problematiche secondo me che abbiamo, leggendo tutta la letteratura, i libri di medicina funzionale, la fisiologia, la fisiopatologia, manca qualcosa a monte, manca secondo me qualcosa che possa permettere di rafforzare il sistema immunitario, di lavorare soprattutto sulle cause. Ora, abbiamo tantissimi strumenti per fare diagnosi e trovare i malati, abbiamo pochissimi strumenti per fare la prevenzione. Quindi noi interveniamo, facciamo un esame, uno screening di massa, questo screening per vedere quante tra mille persone troviamo malate, quante persone tra mille sono malate e però poi se non lo troviamo malato, dice vabbè dai ritorna l'anno prossimo, vediamo se ti sei ammalato o no. Cioè questo penso che non sia giusto, perché dovremmo capire moltissime cose a partire dalla carenza di ossigeno, a partire dalla disfunzione mitocondriale, a partire da tantissimi altri aspetti. Allora, la mia introduzione oggi proprio vuole essere un contributo a questi aspetti, partendo dal fatto che il DNA non è il tuo destino e la rivoluzione epigenetica per la prevenzione nell'era di inquinamento può sicuramente essere un'idea interessante per fare vera prevenzione. Allora uniamo le forze, il contributo che possiamo dare a questa società è quello di mettersi al servizio di qualcosa di più grande di noi e qual è la cosa più grande di noi? La salute. Perché dico sempre che le bare non hanno tasche, ora è quanto mai parallelo il fatto del fatturato, dei guadagni, perché sappiamo che stiamo vivendo anche una situazione socio-economica veramente difficile per tantissime persone. Nello stesso tempo anche lì vai a lavorare e pensi, adesso neanche ti puoi più permettere di ammalarti, perché devi pensare alla tua attività. Alcuni non hanno più neanche le ferie, quindi come fai? Bisogna assolutamente pensare alla nostra salute, fare prevenzione. Allora, se la vita è urgente, il DNA non è il tuo destino, sappiamo benissimo che già dal 2001, ma non solo, ormai sono 30-40 anni che si incomincia a studiare l'epigenetica, ma sappiamo che quando stiamo, come dice sempre anche il professor Biava, per quanto si guarda il nuovo paradigma per la medicina, per accettare un nuovo paradigma nella società, bisogna che muoiano tutti quelli del vecchio paradigma. Ma sapete che allora campa a cavallo, ci sono persone che campano, sono sempre lì nella sala dei bottoni e sono sempre le stesse. Allora dici, ma come possiamo fare? Dobbiamo diventare un po' più consapevoli. Il DNA non è il tuo destino, è tutto quello che noi facciamo, pensiamo, ma è i pensieri, i nostri pensieri che cambiano proprio il nostro atteggiamento verso la vita. Quindi il pensiero negativo si dice spesso è più tossico di una bistecca alla fiorentina. Una bistecca buona, eh? Sono un toscanaccio, quindi viva le bistecche. Però tutto questo diventa il software della nostra vita, quindi la riprogrammazione fisiologica che avviene nelle cellule senza modificare la sequenza del DNA attraverso una serie di meccanismi biochimici che comprendono la metilazione del DNA, modifiche a livello degli stoni e quindi l'attività regolazione della microRNA e altri ancora, quindi il rimodellamento della cromatina. Questo è fondamentale. È un aspetto fondamentale da non sottovalutare perché il software della vita è, dipende proprio, condiziona la nostra salute. Ora, la memoria è nei geni. Genetica o epigenetica? Ambiente, stress, eredità condizionano e modulano la nostra vita. E questo lo sapete, uno dei più grandi ricercatori, Morgante, l'Università di Studi di Udine, proprio ha dedicato molto della sua vita a questa ricerca, a questi aspetti. Ma anche l'Aerse ce lo dice, vedete, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro ci dice, attenzione, nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica e pensate, è trasmissibile fino alla terza generazione. Allora, com'è possibile che non uniamo i puntini e non andiamo in considerazione anche queste cose? Basta pensare alla linea materna, quindi la nonna, la bisnonna, quando si parla. Cioè, se trasmettiamo queste cellule figlie, vengono trasmette fino alla terza generazione, dobbiamo incominciare anche a guardare le persone attraverso questi aspetti dell'epigenetica. Allora, voglio parlare anche di soluzioni, non solo di problemi, causati dall'impatto non solo della radiazione elettromagnetica, che oggi sono un killer silenzioso, ma anche parlare dell'inquinamento ed ecco perché abbiamo creato una scuola di alta formazione. Abbiamo creato una scuola di formazione per mettere, per approfondire, grazie naturalmente a tutti i formatori, i ricercatori, insomma, i clinici, i medici che si occupano proprio di questo per entrare e approfondire queste tematiche e unire le forze. Guardate com'è bello questo cuore, pensate quando ritorneremo a unirci così. Ma ci possiamo unire così se ognuno di noi acquisisce quella consapevolezza, quella responsabilità per dare agli altri e lasciare questo mondo un mondo migliore. Lo possiamo fare solamente attraverso l'esempio. Allora, se l'informazione è vera prevenzione, perché se sei consapevole, probabilmente, e metti in pratica quello che hai imparato, probabilmente puoi cambiare le cose, perché quando decidi puoi cambiare le cose, l'epigenetica sta sopra la genetica, quindi tutto ciò che è l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, cose che sappiamo tutti, ma probabilmente non sappiamo che l'aria che respiriamo non è inquinata, è molto inquinata. Il particolato erodisperso non è il PM10, è il PM1, è il PM0, che entra a livello embrionale e condiziona, dal punto di vista epigenetico, la nostra vita, come il cibo che mangiamo, quante diete. Eppure ogni giorno esce la dieta del momento e dice, no, questa, ah no, mangia solo proteine, ah, mangia solo... Io dico, ma com'è possibile che ogni giorno esce una dieta e poi libri e libri sulle diete. Ma il cibo che mangiamo, com'è sempre più contaminato, come l'acqua che beviamo, sempre più contaminata. Il movimento, la postura corretta, l'ambiente in cui viviamo e poi i campi elettromagnetici di cui oggi voglio, sui quali oggi voglio soffermarmi in modo particolare, perché si parla sempre di tutto e di più, della nutrizione, ma di campi elettromagnetici veramente ancora troppo poco soprattutto nei convegni medico-scientifici. La luce e il sole ci hanno costretti e confinati nelle case, sappiamo benissimo quanto sia importante e indispensabile per la nostra salute e poi la PNEI, la psiconeuroendocrinologia, è fondamentale attraverso i nostri pensieri e le nostre emozioni. Quindi questa è la vita. Pochi però parlano di ossigeno come fonte di vita, pochissimi, perché l'ossigeno te lo danno quando è troppo tardi, quando abbiamo visto, quando ti devono intubare ti danno l'ossigeno. Dammelo prima, perché la carenza di ossigeno mi provoca acidosi, stress ossidativo, infiammazione. Quindi, se noi andiamo a monte e incominciamo a capire, non di fare uno screening per trovare i malati, ma incominciare a capire come l'istangiopatia congenita, acidosi, enzima metabolica, quindi un'infiammazione silente, possa veramente essere la bomba orologeria dentro all'organismo delle persone a livello cellulare, questo potrebbe essere la chiave per fare vera prevenzione. Allora ci sono tutta una serie di fattori che influenzano la nostra salute. Basta pensare alle carenze nutrizionali di vitamine, minerali, amminoacidi. si può pensare solo allo zucchero, al carboidrato, perché ci dà energia e non si tiene conto la quantità giusta di proteine, non si tengono conto il bilanciamento antiossidante, la capacità antiossidante dell'organismo che può contrastare in maniera giusta l'eccesso di radicali liberi e quindi il sistema gastrointestinale. Allora, ecco, rafforzare, difese il nostro sistema immunitario attraverso naturalmente l'evidenza scientifica perché poi dobbiamo anche quando parliamo magari di un antiossidante poi vedremo nel nostro caso ci sono tanti antiossidanti o come sapete da sempre mi occupo di ossigenazione, di self food, di vitamine, minerali, di biodisponibilità e assimilazione a livello sublinguale ma dobbiamo capire se c'è un'evidenza scientifica. Non basta dire questo prodotto contiene vitamina e allora va bene, no? È biodisponibile, è assimilabile, ha una capacità antiossidante e la forma, la via di somministrazione. Allora, se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno e idrogeno noi abbiamo l'energia per la vita, quella molecola, quella moneta di scambio di tutte le reazioni fisiologiche e fisiopatologiche del nostro organismo. Noi pensiamo grazie all'ATP, camminiamo, respiriamo grazie a questa molecola straordinaria che abbiamo dalla combinazione di giusto apporto di ossigeno, giusto apporto di nutrienti. Ma cosa mangiamo, cosa respiriamo? Non mangiamo più e non viviamo più in un ambiente come 100, 200, 300 anni fa. queste carenze provocano da una parte della carenza di ossigeno provocano, abbiamo visto, infiammazione silente, microacidosi a livello mitocondriale del DNA mitocondriale oppure utilizziamo male l'ossigeno e quindi questo si ritrasforma in radicali liberi quindi aumenta l'infiammazione. Dall'altra parte carenze nutrizionali perché la dieta non può essere quella di pane, pizza, pasta e patate. È un problema perché siamo 100.000 miliardi di cellule quindi il danno che noi facciamo lo facciamo a livello cellulare mitocondriale e spesso questo magari in una condizione congenita è anche già compromessa. Quindi cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita? Sappiamo che il recente premio Nobel alla medicina allora io lo dico un'altra volta recente premio Nobel alla medicina parla di fisiopatologia e fisiologia legato alla alla disfunzione mitocondriale alla carenza di ossigeno alla regolazione dell'ossigeno all'adattamento delle cellule che hanno che vivono in un ambiente in carenza di ossigeno ancora una volta infiammazione stress ossidativo danno modificazioni a livello del DNA è di qui che inizia tutta la storia delle patologie è il premio Nobel 2019 a settembre l'hanno dato proprio per questa scoperta ma come sapete lo sapevamo già l'effetto Warburg Guiton il testo di fisiologia medica dove si studia fino al terzo anno di medicina e non solo si parla di carenza di ossigeno legato a qualsiasi infiammazione malattia cronica allora anche voglio citare uno dei più grandi medici che abbiamo ancora viventi che dice fino a quando il discorso che Sergio Stagnaro non cadrà sui mitocondri sulla loro importanza in fisiologia patologia sulla terapia mitocondriale con efficaci stangioprotettori le malattie cardiovascolari il diabete il cancro continueranno a essere epidemia in aumento e allora io mi dico ma come mai non se ne parla perché tutte le malattie come ci insegna anche la fondazione di medicina mitocondriale quindi ormai il Besta di Milano parlano di disfunzione mitocondriale probabile con causa di tutte le malattie e poi naturalmente c'è l'epigenetica allora la disfunzione mitocondriale dobbiamo tenerla ben presente e poi e poi sappiamo l'epigenetica è legata anche all'inquinamento quindi noi programmiamo oggi i nostri figli a avere un rischio di ammalarsi molto elevato pensiamo che nascono sempre più bambini con malattie a livello cardiovascolare tumorale quindi se io vi chiedo quando è l'ultima volta avete sentito parlare di inquinamento dite beh ne hai parlato poco fa no allora 460.000 morti l'anno in Europa per inquinamento i metalli pesanti sempre più insomma presenti nei nostri cibi nell'acqua nell'alimentazione sappiamo che questo insomma crea danni a livello del sistema neuro nervoso insomma neuroendocrino compriamo pubblicità e viviamo in un mondo ormai altamente inquinato e questa è la fotografia del nostro mondo è questo quello che stiamo facendo la nostra società è quello che questo che sta accadendo in tutte le aree inquinate 200 siti da bonificare come sapete per l'amianto siamo a 96.000 siti da bonificare vogliamo parlare dei 6.000 morti l'anno per mesotelioma dovuto all'amianto quindi solo stiamo parlando di dati di reali di quello che sta accadendo nella nostra società e è quello che stiamo donando ai nostri figli e alle future generazioni tutto ciò intossica a livello fetale quindi con i distruttori endocrini metalli pesanti particolato ultrafine a livello embrionale è lì dove si programmano e si si gioca sulla vita e sulla salute e la malattia il centro delle malattie è il feto e infatti guardate nascono per inquinamento 500.000 morti premature in Europa morti premature non sono neanche nati e l'Italia è al primo posto non possiamo continuare così non possiamo continuare a vivere in un mondo come questo avere isole di plastica cosa possiamo fare a riguardo cosa possiamo fare sono molto preoccupato perché poi arriva il campo elettromagnetici abbiamo fatto dei convegni interessanti online su 5G con grandi esperti con Alessandro Gelli professore Fiorenzo Marinelli hanno presentato i loro libri sulla stanchezza cronica il nostro Alessandro Gelli ha scritto un libro bellissimo della stanchezza e Fiorenzo Marinelli ha scritto un libro wireless quindi due libri veramente importantissimi quindi il nemico invisibile qual è? le frequenze guardate come viviamo come dormiamo il wifi attenzione ora hanno lanciato anche i satelliti qui intorno alla terra che radieranno con queste frequenze 5G la nostra la nostra vita quindi l'epigenetica capite che che ricopre un ruolo fondamentale e questi argomenti verranno trattati nella scuola di alta formazione avremo uno dei più grandi esperti come sapete a livello internazionale come professore Ernesto Burgio che ci parlerà proprio del ruolo dell'epigenetica 6 ore di lezione quindi la libreria rappresenta il genoma intero e il libro rappresenta un genere naturalmente tutti i cambiamenti epigenetici ci influiscono sulla nostra salute a cominciare non solo dalla dieta ma a cominciare dall'inquinamento a cui noi siamo sottoposti siamo bombardati tutti i giorni dallo stress alle xenobiotici farmaci alimentazione alcol sport che non è corretto troppo o poco l'età quindi le condizioni ambientali attuali si ripercuotano sul nostro benessere l'inquinamento è altissimo dovunque ma in che modo si ripercuote su di noi guardate eccolo qua come si ripercuote il nostro corpo è costantemente sottoposto alle menti tossici fonti di tossicità ambientale e il loro effetto sul nostro corpo è questo quello che sta accadendo ma continuiamo a fare finta di nulla e vi ricordo che l'ambiente dove si vive dove si lavora le nostre case sono dalle 3 4 5 volte più inquinate che all'esterno perché le sostanze chimiche non vengono portate via con la pioggia puliamo e rimangono lì seccano e vanno nell'aria noi le respiriamo e pensate in questi 2-3 mesi di confinamento nelle nostre case bombardati dal wifi dai campi elettromagnetici dal telefonino che non vogliamo mai lasciare dallo stesso computer lo stesso Alessandro Gelli nel suo libro fa menzione di quanto sia dannoso vivere vicino a contatto sempre con i campi elettromagnetici ai nostri bambini questo è veramente un problema da risolvere quindi diverse tottine nei nostri alimenti creano il problema dobbiamo lavorare qui dobbiamo avere la consapevolezza guardate i campi elettromagnetici stanno creando un danno enorme ai nostri ai nostri bambini a 5 anni 10 anni agli adulti quante ore lo utilizziamo sappiamo già che ci sono delle sentenze definitive dove hanno dimostrato la causa dell'uso di cellulari e i tumori perché viviamo in queste condizioni dormiamo e viviamo così perché guardate noi siamo 70-80% di acqua poi domani ci saranno delle relazioni importantissime sull'acqua ci sarà il professor Spaggiari sull'epigenetica la biofisica ma guardate noi mettiamo contatto costantemente i nostri corpi con cosa dal cibo passatemi il termine dal cibo spazzatura all'inquinamento costante e naturalmente la nostra acqua come un acquario si diventa sempre più sporca quindi come potranno vivere le nostre cellule le statistiche mostrano che l'autismo sta crescendo in modo esponenziale tra i bambini guardate questi sono dati importantissimi aumento del 30% negli ultimi 10 anni stiamo parlando del 30% stiamo parlando di di uno l'incidenza guardate veramente insomma alcuni esperti ritengono che se si considera l'aspetto completo disturbi neurologici che possa rientrare sotto più ampio ombrello di disturbi dello spettro autistico l'incidenza può addirittura arrivare a 1 su 10 io sono preoccupato per questi dati l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 31 maggio 2011 ha detto che il campo elettromagnetico il telefono potrebbe essere probabilmente cancerogeno ma lo sappiamo c'è un aumento dei tumori cerebrali notevole alcuni tumori cerebrali sono associati all'esposizione a lungo termine le radiazioni prodotte dai telefoni cellulari con quale precocità l'autismo può entrare nelle nostre case dobbiamo incominciare a lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento questa è l'epigenetica no ma beh ma cosa vuoi che sia un po' quando sei in stato interessante di vivere in un ambiente malsano inquinato tossico vi sono evidenze che attestano la correlazione fra frequenze elettromagnetiche e disturbi cerebrali ma cosa stiamo facendo cosa sta accadendo allora non possiamo naturalmente vivere in questa oasi dove aria luce magnetismo cibo e acqua possano veramente essere la via maestra per ritornare alla natura back to nature no e questo scordiamo questo è Bama questa home crab pensate che che spettacolo ma non possiamo modificare il macro ambiente perché sfido chiunque a cambiare lavoro città casa come fai devi ottimizzare devi cercare di capire di incominciare a togliere quello che ti sta danneggiando lavorare sulla microecologia domestica sulla bioarchitettura la filosofia Bama dovrebbe entrare nelle nostre case nel futuro delle nostre generazioni perché perché guardate la differenza noi probabilmente si stiamo abituando a vivere in quel mondo quello di sinistra quello quella è una normalità pensate quanti danni e magari lì ci sarà qualcuno che sta per rimanere in stato interessante e continua per non lo sa e continua a vivere in quegli ambienti capite che perché sono preoccupato allora dobbiamo proteggere la nostra famiglia noi stiamo divulgando questa rivoluzione secondo me potrebbe essere molto interessante come per migliorare l'anammesi questo è un test molto veloce che si fa sul bulbo del capello ormai abbiamo più di 160 centri in Italia che ci allinea con la natura che inizia a captare quei segnali di disturbo che stanno danneggiando la salute della persona quindi fare prevenzione migliora l'anammesi in maniera importante abbiamo poi un report di 36 pagine che ci dice qual è la priorità dove intervenire basta prelevare 3-4 bulbi del capello a livello occipitale questo test simili vengono utilizzati dalla NASA per valutare l'impatto ambientale e la salute degli astronauti viene utilizzato ormai lo sapete il bulbo del capello è un biomarker fondamentale molto affidabile leggerla in maniera biofisica è molto più preciso perché noi facciamo l'elettrocardiogramma l'encefalogramma facciamo l'elettrostimolazione per vedere come funziona facciamo l'elettromiografia quindi sono tutti esami biofisici allora leggere da un punto di vista biofisico il bulbo del capello noi abbiamo possiamo sicuramente fare la differenza per la prevenzione perché per avere strumenti per fare la diagnosi ne abbiamo già abbastanza per trovare i malati noi dobbiamo fare prevenzione e per fare prevenzione dobbiamo unire i puntini unire le nostre conoscenze lavorare sull'alimentazione capire quale sono le sostanze chimiche che stanno danneggiando quella persona le tossine le radiazioni il sistema gastrointestinale il microbiota adesso tra poco ci sarà un grande esperto il grande Enrico Bevacqua che insomma è un esperto e da sempre studia questo il microbiota e quanto questo possa influire sul sistema immunitario e sulla nostra salute e poi gli indicatori di resistenza ai campi elettromagnetici allora la domanda è è un problema da risolvere questo? assolutamente sì cosa facciamo noi? cosa fate voi? cosa facciamo per risolvere questi problemi? per proteggerci? guarda noi se siamo posti questa domanda insieme a Massimo Fulgini Massimo è un grande studioso di questo abbiamo detto possiamo attaccare i campi elettromagnetici? no non possiamo o facciamo spengere tutte le antenne e le mi hanno tutta la tecnologia altrimenti non si può possiamo sfuggire dai campi elettromagnetici? no anche questa volta no possiamo fare a meno dell'attuale tecnologia? siamo veramente disposti a rinunciare a tutte queste comodità? vi dico assolutamente no io penso che alcuni di noi gli togliamo il cellulare dalla loro vita questi non sanno più cosa fare nella loro vita quindi anzi vanno direttamente in panico dovremmo mettere delle vere e proprie cliniche di disintossicazione da cellulare quindi probabilmente no anche per questione di lavoro quindi non si può ma i campi elettromagnetici hanno una cosa sicura che danneggiano continuamente le nostre cellule invertono la polarità biomagnetica delle nostre membrane cellulari continuamente più o meno più o meno più o meno più o meno questa non è una cosa a cui noi eravamo abituati 100-200 anni fa ma solo anche 20 anni fa quindi è cambiato qualcosa sì l'inquinamento è aumentato progressivamente il danno dei campi elettromagnetici sta condizionando pesantemente la nostra salute e non ce ne vogliamo rendere conto per questo è nata una nuova tecnologia e qui ci tengo a parlare del mio amico Massimo Fulgiri perché con questo strumento vi dico che lui sta facendo anche ricerca sta funzionando molto bene in grado di trasformare il rumore in musica ha fatto anche degli studi su sangue molto interessanti e noi stiamo facendo gli studi importanti sulla su questa card perché che è stata progettata anche per il 5G come anche il librato mondis sono stati fatti vari studi sulle radiazioni prima e dopo e guardate che miglioramento notevole quando noi siamo a contatto col computer e con i telefoni il nostro sangue viene comunque cambia completamente se noi associamo guardate no campi elettromagnetici le cose cambiano allora cosa possiamo fare noi abbiamo fatto degli studi prima e dopo la smart card e come vedete insomma le cose migliorano quindi c'è una migliore ossigenazione nel sangue quindi una migliore protezione verso i disturbi non solo dell'inquinamento ma anche proprio per migliorare l'acqua che noi beviamo per esempio ancora questo è un altro studio fatto in Russia nel 2016 allora e questo è uno studio prima e dopo l'undis il test epigenetico rilevava un danno da campi elettromagnetici e vedete dopo 90 giorni allora noi ereditiamo la terra dai nostri antenati e la prendiamo in prestito dai nostri figli cosa vogliamo fare sapete che da sempre mi occupo di ossigenazione il self food è stato battezzato nel 2004 dal mio amico Mauro Mariani il passe per il benessere questo un pool antiossidante sinergico sistemico noi possiamo fare molto abbiamo detto che noi mangiamo per produrre idrogeno respiriamo per avere l'ossigeno dobbiamo migliorare questo aspetto se abbiamo dei nutraceutici oltre all'alimentazione lo stile di vita l'ambiente che vanno a rimettere a posto il motore mitocondriale noi possiamo fare prevenzione perché quando andiamo in carenza di ossigeno carenza di ossigeno riduce la sintesi ATP arriva il danno tessutale e incomincia la stanchezza cronica poi questa diventa fibromialgia poi patologie nelle generative e poi sapete anche malattie più gravi quindi dobbiamo stanchezza cronica è già un problema sociale ormai questa mancanza di attività questa infiammazione questi dolori continui e anche l'ischemia riperfusione basti pensare a ictus infarti emorragie cerebrali dobbiamo arrivare lì o possiamo fare qualcosa prima dobbiamo mantenere un livello di ossigeno ottimale non quando ci manca l'aria ci manca l'ossigeno noi ci mettiamo la mascherina e andiamo intubati non è proprio così che funziona la nostra vita poi abbiamo visto adesso dagli ultimi danni che questo comporta a livello polmonare questi problemi poi insomma rimarranno per la vita la qualità della vita non sarà più come prima in tutte le malattie pensiamoci prima perché senza ossigeno noi produciamo solo due molecole di ATP con l'ossigeno 36 molecole di ATP ed ecco il testo di fisiologia medica GITON qualunque carenza dolore sofferenza malattia cronica è causato da una sufficiente ossigenazione a livello cellulare lo stress ossidativo quindi carenza di ossigeno stress in acidosi stress ossidativo infiammazione e sappiamo quanto questo sia fondamentale per la nostra salute tenere sotto controllo lo stress ossidativo quindi modulare perché oggi non possiamo più parlare di antiossidanti dobbiamo parlare di modulatori e se il food è in grado di aumentare l'ossigeno fino all'80% con una capacità antiossidante dimostrata certificata studi pubblicati su riviste scientifiche hanno dimostrato che la capacità antiossidante è 30 volte più elevata del plasma umano è un colloide quindi abbassa la tensione superficiale modifica le proprietà elettrolitiche quindi arriva in 0,64 secondi lo ripeto 0,64 secondi lui arriva direttamente e va nel sangue perché viene assimilato a livello di vienna cava e mucose quindi direttamente biodisponibile un colloide simile a sangue o linfa queste guardate da 9 nicron in un bicchiere d'acqua con 8 gocce di self food passa a 192.323 lo z potenzial da 3,65 passa a meno 22 questi sono i dati che dovremmo avere da un nutraceutico quindi altissima biodisponibilità assimilazione studi sugli sportivi riduzione della frequenza cardiaca la frequenza respiratoria l'aumento dell'emoglobina globuli rossi globuli bianchi riduzione dell'acido lattico questo è uno studio importante doppio secco istituto di pretoria e poi c'è una linea importante per chi è interessato può chiederlo e poi gli studi sull'endotelio l'endotelio l'endotelio abbiamo visto dove questo virus crea un danno fondamentale a livello mitocondriale a livello endoteliale quindi blocca la respirazione guardate questo è lo studio fatto dall'università di Milano la professoressa Maria Elena Ferrero queste sono le cellule endoteliali prima e questo dopo prima e dopo attivazione del DNA mitocondriale aumento dell'ossigenazione cellulare modulazione della SOD e anche sul miglioramento come avete visto sulle cellule circolanti linfociti questo è uno studio pubblicato quindi San Raffaele di Milano Università di Milano quindi quando si pubblica incomincia a essere interessante poi i parametri sullo stress ossidativo se le patologie neurodegenerative ho ancora 5 minuti allora vado veloce sclerosi multipla sclerosi laterale amiotrofica morbo di Parkinson fibromiologia anche qui studi su questi sono i primi 50 pazienti trattati studio anche questo pubblicato e è stato dimostrato che Cell Food riduce significamente i livelli radicali liberi probabilmente attraverso un meccanismo di regolazione della funzionalità mitocondriale a livello cellulare e controlla i parametri dello stress ossidativo significativamente superiore rispetto a quello di altri integratori comunamente utilizzati e questo è lo studio pubblicato questo su 50 pazienti e questo su 230 pazienti quindi ulteriore conferma con un follow up di un anno quindi 34 creazioni per disintossicare questi pazienti dall'alluminio e l'associazione di un prodotto come Cell Food proprio per migliorare tutti i parametri dell'ossidativo poi è stato fatto uno studio sulla fibromialgia anche qui su 30 pazienti è stato pubblicato un lavoro su OncoTarget nel 2005 dove hanno messo Cell Food come uno dei prodotti interessanti per indurre apoptosi morte cellulare programmata nelle cellule tumorali Cell Food non cura i tumori non è un farmaco si occupa di riattivare i mitocondri e dare un apporto di ossigeno ottimale modulando il consumo di ossigeno a livello cellulare e mitocondriale tutti gli studi li trovate pubblicati su PAMMET poi questo è un regalo importante vedete l'ultimo studio pubblicato a settembre dall'Istituto Tumori Regionale di Roma dove hanno dimostrato uno studio preclinico che è in grado di ridurre associando chemioterapia e radioterapia la massa tumorale fino al 70% poi ci tenevo a parlare di questo prodotto prima di chiuderli perché è una novità straordinaria che stiamo lanciando sul mercato si chiama Bionergen sicuramente un prodotto straordinario per la pelle e l'intestino allora concludiamo dicendo che voglio dire il mio grazie particolare di cuore a tutti voi per la fiducia perché vi sono veramente molto grato pensate che abbiamo avuto in questo periodo più di 1400 iscrizioni e quindi grazie di cuore a tutti grazie a tutti quelli che hanno creduto in me a tutti quelli che ogni giorno contribuiscono e sognano in grande voglio ringraziare Antonio per il suo lavoro e per tutte le persone Monica Grant e per la scuola di alta formazione insomma sognano in grande per far sì che la propria vita sia un capolavoro vissuto soprattutto da protagonisti e non da spettatori e non dimenticate che la vita senza amore non ha senso quindi non è penso non è facile ma è semplice basta decidere di farlo buona vita a tutti e grazie veramente di cuore di avermi ascoltato grazie a tutti